E' caos nel mondo della scuola in Campania, mentre i sindaci chiudono il Tar rispedisce al mettente. Dopo la pronuncia del Tribunale regionale contro le disposizioni in materia del Governatore De Luca dei giorni scorsi, oggi anche il Presidente della sezione staccata saternitana del Tar Campania accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche presentata da sette cittadini scafatesi contro il Comune di Scafati. Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia anche monocratica dell'ordinanza numero 3 del 6 febbraio scorso a firma del Sindaco con la quale era stata ordinata la sospensione delle attività didattiche in presenza a far data da oggi fino al 20 febbraio su tutto il territorio comunale. In fase sospensiva fissando la trattazione collegiale in Camera di Consiglio il 9 marzo prossimo il Tar ha annullato la chiusura delle scuole e da domani a Scafati bisogna tornare in classe. nonostante i contagi dell'ultima settimana che si sono quasi quantuplicati. Nella sola giornata di ieri 39 i nuovi positivi. Stamane un gruppo di mamme, una ventina, hanno protestato davanti al municipio chiedendo il ritorno a scuola dei figli. La razza della pronuncia del Presidente del Tar salernitano Pazanisi sta nel fatto che il provvedimento impugnato con il quale viene disposta una sospensione generalizzata delle attività didattiche in presenza su tutto il territorio scafatese non contiene alcun riferimento a dati sanitari specifici dell'unità di crisi regionale o della competente ASL circa un aggravamento dei contagi nelle scuole o circa il nesso eziologico, si legge, tra l'attività didattica in presenza ed un incremento dei contagi in altri settori o ambiti relazionali. E che quanto al periculum sussistono le prospettive gravissime, si legge ancora, in relazione al diritto fondamentale allo studio già ampiamente sacrificato in Regione Campania durante la pandemia in corso senza alcuna comparazione con altre attività sociali ed economiche che invece hanno ricevuto diverso trattamento. Rispettiamo il risponso del Tarra, espresso senza sentire le nostre ragioni e ci atterremo a quanto disposto per il ripristino delle attività didattiche in presenza ha risposto il sindaco Cristoforo Salvati. Ciononostante, continuo a difendere le mie scelte e a ribadire la preoccupazione per l'attuale andamento della situazione epidemiologica nella mia città che ha fatto registrare nelle ultime due settimane un incremento esponenziale del numero dei nuovi positivi passati da 15 di 15 giorni fa a 174 della settimana successiva, 19 dei quali accertati negli istituti scolastici tra personale docente, non docente e studenti. Questi numeri non potevano noi indurmi ad adottare misure restrittive ed impopolari, anche se in via precauzionale. Il rischio che si giunga ad una nuova zona rossa a Scafati è altamente probabile, difendo quindi le mie scelte perché motivate dal senso di responsabilità verso la mia città, dalla necessità di tutelare tutti gli scafatesi, anticipando la nostra intenzione a costituirci nell'udienza di merito. Ed ora cresce ancora più l'attesa per la task force dell'unità di crisi della Regione, prevista per domani, che deciderà del destino delle scuole campane. Preoccupano un poco sindaci, dirigenti scolastici, insegnanti e genitori l'aumento dei contagi nelle scuole dell'agro, dove si amplia la mappa delle scuole chiuse o di intere classi in quarantena. E dopo l'annullamento del tarra per Scafati, ci si interroga anche nelle altre realtà, dove i sindaci in prima linea per contrastare l'epidemia hanno temporaneamente sospeso l'attività scolastica in presenza. E non sono pochi i comuni, anche nell'agro. Intanto, scuole chiuse a Sarno, stamane l'ordinanza del sindaco Giuseppe Canfora, di sospensione fino al 20 febbraio delle scuole dell'infanzia, delle primarie e delle medie. Qui, su segnalazione dell'ASL e dei singoli dirigenti scolastici, in quanto sono in corso ancora certamente relativamente ai plessi scolastici, l'attività didattica continuerà con la modalità a distanza. Alla base della decisione dell'amministrazione comunale di Sarno, l'aumento di casi positivi di molti genitori. Scuole chiuse anche a San Marzano sul Sarno, dove il sindaco Carmela Zuottolo ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, Anna Frank, sino al 21 febbraio, dopo alcuni casi di contagio. E da Roccapiemonte, dove nel fine settimana scorso il primo cittadino, Carmine Pagano, ha deciso la chiusura di tutte le scuole fino al 12 febbraio, per diversi casi di positività di insegnanti e alunni. A Nocele Inferiore questa mattina, gli studenti del liceo scientifico Nicola Sensale sono rimasti a casa e hanno seguito le lezioni in didattica a distanza. La chiusura si è resa necessaria per sanificare l'edificio dopo un caso di contagio, al quale se ne sarebbe aggiunto un altro nelle ultime ore, se attendono eventuali decisioni della dirigente scolastica. Il plesso Giuseppe De Lorenzo, con la scuola elementare media del secondo istituto comprensivo, resta chiuso per tre giorni, da oggi sino a mercoledì, per una completa sanificazione. In quarantena ci sono quattro classi frequentate dall'insegnante ammalatasi di Covid. Sanificazione anche all'alberghiero, ma oggi regolarmente in classe. A Pagani restano chiusi i plessi della Scuola Media Sant'Alfonso e della Don Milani, chiuse su ordinanza del sindaco fino all'11 febbraio, a causa di alcuni studenti positivi nei due istituti, dove ci sono altri due alunni positivi delle due classi, dove si erano registrati gli altri contagi. Scuola collodia aperta per le quattro sezioni dell'infanzia e nove delle primarie, mentre in quarantena ci sono otto classi delle primarie per la positività e gli screening di tre insegnanti. Resteranno a casa fino al 12 febbraio, se i tamponi daranno esito negativo. Anche qui malumore tra i genitori per le notizie trapelate che vedevano le insegnanti negative a seguito di tamponi seguiti successivamente pare in forma privata. Ma il dirigente a Trilio Trusio ha dovuto necessariamente attenersi alle disposizioni dell'ASL, che in caso di tampone positivo prevedono la quarantena obbligatoriamente. Una classe in quarantena poi anche alla Scuola Media Criscuolo, a seguito della positività di un insegnante. A Nocera Superiore sospese le attività didattiche in presenza per oggi e domani al plesso Settembrini-Fresa-Pascoli per le classi quarti e quinte per la necessità di procedere ad una sanificazione straordinaria. Per una specifica classe la didattica a distanza si proterrà per tutto il periodo interessato alla quarantena, presumibilmente fino al 15 febbraio prossimo. Grazie a tutti.